Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni, impegnata nella discussione di numerosi documenti di indirizzo politico e amministrativo, ha visto il voto favorevole sulla quasi totalità degli atti presentati. È stata dedicata la discussione di mozioni e risoluzioni la seduta settimanale dell'Assemblea Legislativa, presieduta da Donatella Porsi, rinviata in terza commissione la mozione del consigliere Marco Squarta, Fratelli d'Italia, portavoce del centrodestra, che mirava di impegnare la Giunta ad individuare le risorse necessarie per attivare anche nelle aziende sanitarie Umbre dei programmi di abbattimento delle liste d'attesa, che prevedano l'erogazione di visite ed esami diagnostici fino alle 24 nei giorni feriali e nei pomeriggi del sabato, riconoscendo premialità e compensazioni per gli operatori coinvolti in tali attività. Dopo una serie di interventi, il relatore ha accolto la proposta di rinvio, con l'impegno che un nuovo testo, articolato e condiviso, venga licenziato dall'organismo consigliare entro il 30 novembre. Approvata invece con voto unanime una proposta di risoluzione contenente orientamenti di indirizzo generale per la redazione del nuovo piano sanitario regionale 2018-2020, l'atto, illustrato in aula dal consigliere Attilio Solinas, elaborato dalla terza commissione, è il frutto dei contributi apportati attraverso varie audizioni dai medici dell'intersindacale, che racchiude numerose sigle e da vari soggetti che hanno espresso le proprie richieste all'organismo dell'Assemblea legislativa che si occupa di sanità e sociale. E sempre all'unanimità ha avuto il via libera una mozione presentata da Carla Casciari del Partito Democratico che chiede alla Giunta di garantire anche in Umbria il test non invasivo per la diagnosi genetica prenatale per le donne in gravidanza con età superiore ai 35 anni, consistente in un prelievo ematico che può evitare il ricorso alla miocentesi ed ha un costo molto contenuto. Un'animità anche per lato di indirizzo presentato dai consiglieri del Movimento 5 Stelle, Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari, che chiede l'impegno dell'esecutivo regionale a disporre un parziale rimborso della spesa per i possessori di veicoli fino a 35 quintali che installeranno impianti GPL o metano come carburante alternativo e invita la Giunta a impegnarsi con il Governo nazionale per incentivare a sua volta, attraverso un apposito piano nazionale, chi sceglie veicoli al più basso o a nullo impatto ambientale. Voto unanime è stato espresso poi su una mozione dei consiglieri regionali Carla Casciari e Gianfranco Chiacchieroni del Partito Democratico che chiede all'esecutivo di Palazzo Donini di sostenere gli imprenditori agricoli dell'Umbria del settore della corilicoltura, prevedendo strumenti efficaci volti a promuovere e valorizzare le qualità delle produzioni locali di nocciola. L'Aula ha dato anche il via libera a una proposta di risoluzione della Terza Commissione nel quale atto vengono auspicate iniziative da parte della Giunta regionale al fine di promuovere nel nuovo piano sanitario una politica di tutela effettiva dei diritti delle persone affette da malattie rare come la sindrome X fragile. Approvata invece a maggioranza in maniera bipartisan, 16 voti favorevoli di PD, socialisti, Movimento Democratico e Progressista, Forza Italia, Ricci Presidente Italia Civica, Contrario Squarta, Fratelli d'Italia, ha stenuto De Vincenzi dal gruppo Miss Umbria Next una proposta di risoluzione che prevede la facilitazione dell'utilizzo di farmaci cannabinoidi a scopo terapeutico su iniziativa delle consigliere Silvano Rometti dei Socialisti che ha relazionato in Aula. In terza commissione il consigliere regionale dei Fratelli d'Italia, Marco Squarta, anche portavoce dell'opposizione di centrodestra, ha interrogato l'assessore alla salute Luca Barberini sulle modalità di assegnazione degli obiettivi ai direttori generali delle aziende sanitarie locali e anche sulla loro retribuzione. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Marco Squarta, ha illustrato una sua interrogazione in terza commissione con la quale ha chiesto chiarimenti all'assessore alla sanità Luca Barberini circa le modalità di assegnazione degli obiettivi ai direttori generali delle aziende sanitarie regionali e la retribuzione degli stessi. Squarta ha chiesto in particolare a quanto ammonta la corresponsione dell'integrazione del trattamento economico annuo per singolo direttore con riferimento agli obiettivi 2016, la percentuale di abbattimento-contenimento della spesa realizzata dai singoli direttori e gli ambiti di abbattimento-contenimento della spesa, il dettaglio dell'abbattimento dei tempi di attesa conseguito dai singoli direttori. L'assessore Barberini ha risposto che, ad oggi, per il 2016, non è stato elargito neanche un euro ai direttori generali delle ASD per la retribuzione variabile per obiettivi, perché in attesa della valutazione da parte del Ministero della Salute e di quello delle economie e finanze, che stabiliscono puntualmente se la regione è corrispondente a tutti gli adempimenti sia di carattere economico-finanziario che di qualità assistenziale e sanitaria. Esito trasmesso dal Ministero delle Finanze soltanto lo scorso 10 ottobre 2018. A seguito di ciò, ha spiegato l'assessore Barberini, l'organismo indipendente di valutazione produce una relazione dettagliata rispetto al raggiungimento degli obiettivi. Solo a questo punto l'assessorato potrà procedere nella valutazione complessiva. Per quanto riguarda la determinazione degli obiettivi, non è sempre facile individuardli a inizio anno perché, ha detto l'assessore, ogni direttore che amministra l'azienda deve operare su fondi sanitari trasferiti alle aziende da parte della regione, che a sua volta può contare su risorse finanziarie certe solo quando viene quantificato il Fondo Sanitario Nazionale. Barberini ha tenuto comunque a sottolineare che quest'anno sono stati anticipati di molto rispetto agli anni scorsi gli obiettivi da conseguire per i direttori generali. Nella replica, Squarta si è dichiarato non soddisfatto sia per la tempistica dell'assegnazione degli obiettivi per i direttori generali sia per i criteri previsti per il raggiungimento degli obiettivi che dovrebbero essere molto di più finalizzati verso i servizi erogati. Sconti sui trasporti pubblici scolastici in base al reddito è oggetto di una mozione presentata in seconda commissione dal consigliere Carla Casciari del Partito Democratico Valutare l'opportunità di applicare degli sconti per gli abbonamenti al trasporto pubblico scolastico sulla base dell'Isee del nucleo familiare che contempli anche la gratuità dei mezzi per gli studenti le cui famiglie abbiano un indicatore Isee inferiore a 10.632 euro il valore preso a riferimento dalla giunta per il bando relativo alla gratuità o semi-gratuità dei libri di testo. Questo è l'obiettivo della mozione che Carla Casciari ha illustrato in seconda commissione evidenziando come l'abbonamento scolastico non tenga conto del reddito delle famiglie non sia possibile fare il trimestrale né tantomeno quello mensile e non ci siano biglietti multicorse che prevedono ribassi di prezzo per gli studenti. Quindi, ha spiegato Casciari, è opportuno sentire l'assessore in vista del bando per la gara sul trasporto pubblico regionale anche in considerazione del fatto che molte regioni hanno messo le agevolazioni come elemento di punteggio premiante per il bando di gara. Il presidente della seconda commissione Rosbrega ha deciso quindi di convocare in audizione su questo argomento l'assessore regionale ai trasporti e, in separata sede, una rappresentanza degli studenti. In prima commissione, audizione del presidente del Corecom sul disegno di legge della Giunta regionale per il sostegno all'informazione locale. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, prosegue l'esame del disegno di legge della Giunta regionale per il sostegno all'informazione locale. Dopo le audizioni della settimana scorsa con i rappresentanti di radio e tv locali, editori e giornalisti, questa volta è stato ascoltato il presidente del Corecom, Marco Mazzoni. Mazzoni ha ricordato alcuni dati del rapporto sul consumo di informazione dell'Agicom per mostrare l'utilità della legge, ha detto. L'80% degli italiani si informano ogni giorno e il 75% lo fa utilizzando più di un mezzo di informazione. La tv rimane il principale mezzo per l'informazione politica per il 51% degli italiani, ma il 24% ricava questo tipo di informazioni dai quotidiani. Il 55% si informa prevalentemente attraverso fonti nazionali, ma quasi il 20% lo fa attraverso fonti locali e tra queste il mezzo più usato è il quotidiano tradizionale. Per Mazzoni questi dati dimostrano l'importanza dell'informazione locale e l'utilità di questo disegno di legge che vuole sostenerla. Per quanto riguarda l'atto della giunta in esame della commissione, Mazzoni ha evidenziato alcune criticità del testo, a partire dai requisiti per accedere al finanziamento che prevedono l'iscrizione al registro degli operatori della comunicazione da almeno due anni. Inoltre Mazzoni si è detto soddisfatto del coinvolgimento del Corecom in molti aspetti della legge, ma ha chiesto di specificare meglio il ruolo del comitato. È tornato a riunirsi il Comitato per il controllo e la valutazione sulle leggi regionali presieduto dal consigliere Roberto Morroni. Il Comitato per il controllo e la valutazione presieduto da Roberto Morroni si è riunito a Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa, per valutare l'attuazione delle leggi regionali relative alla valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, alla legislazione turistica regionale, alle norme per le politiche di genere e agli indennizi per i danni arrecati dalla fauna selvatica. Dopo le articolate relazioni degli uffici in merito alle azioni messe in atto dall'esecutivo regionale per garantire l'attuazione delle quattro diverse norme, il Comitato ha deciso di assegnare ognuna delle relazioni ad un componente dell'organismo stesso che provvederà a trasmettere l'esito degli approfondimenti alle commissioni competenti per materia. Per quanto concerne l'applicazione della normativa turistica, i danni provocati dagli animali selvatici e le norme per le politiche di genere, il Comitato ha deciso di svolgere un ulteriore approfondimento prevedendo anche un'audizione con l'assessore regionale. Il consigliere regionale Andrea Smacchi del Partito Democratico annuncia la presentazione di una mozione per impegnare la Giunta regionale ad attivarsi per prevedere l'essenzione IRAP alle aziende pubbliche di servizio alla persona a partire dal bilancio di previsione 2019. Il capogruppo della Lega Emanuele Fiorini ha presentato all'Aula una mozione firmata congiuntamente con il collega di partito Valerio Mancini che mira impegnare la Giunta a incentivare l'uso di strumenti di controllo e sorveglianza nelle strutture umbre che ospitano soggetti a rischio a sì di nido scuole d'infanzia case di riposo per anziani centri di recupero per malati psichiatrici l'atto verrà discusso in una prossima seduta d'Aula. Il consigliere regionale del partito democratico Carla Casciari annuncia la presentazione di una mozione per impegnare la Giunta a definire standard e percorsi formativi relativi alla figura dell'operatore socio-legale per il sostegno ed orientamento a rifugiati richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale. La seconda commissione consigliare presieduta da Eros Brega ha approvato all'unanimità il programma di attività dell'agenzia forestale per l'anno 2018 sulla base dell'apposita delibera di Giunta voto favorevole dei consiglieri presenti Brega c'è la presentazione di una mozione per chiedere a Giunta Governo Trenitalia di fare i necessari urgenti investimenti per potenziare le officine manutenzioni cicliche di Foligno e realizzare la tanto annunciata piastra logistica ferroviaria. Anche per questa edizione è tutto vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive della Regione è disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube grazie per la vostra attenzione arrivederci